Prima di tutto, piacere di rivedervi, molti di voi abbiamo lavorato insieme a questo progetto OGP finché io ho continuato a fare altre performance, però mi fa piacere vederti, vedevo anche molti amici. Allora, io vi presento che cosa faccio, cosa faccio veramente di lavoro e parto da quello che ha detto prima... Come si chiama? Dalla scrittura, nel senso che quando nel 2004 più o meno c'è stato il processo di democratizzazione delle mappe io nel mio primo lavoro ho fatto l'urbanista per molti anni, per l'urban planner e le mappe, soprattutto le cartografie, erano degli strumenti per chi faceva pianificazione oppure per gli strumenti per chi andava in giro, quelle là turistiche erano strumenti di potere ma anche di conoscenza del territorio. Quando nel 2004 nasce quasi contemporaneamente il progetto di OpenStreetMap e il progetto di Google Map ereditato poi da un progetto, lanciato da un progetto invece europeo che Google riprende praticamente c'è questo processo di, in qualche modo, di rendere le mappe non solo uno strumento di conoscenza ma anche uno strumento di scrittura che vuol dire che noi non leggiamo solo le mappe ma siamo anche in grado di scriverle. Io vi faccio una brevissima presentazione per capire il contesto anche dove io mi muovo e perché poi ho aperto una società che si chiama City OpenSource. City OpenSource sta a veicolare l'idea che la città non solo è un oggetto del linguaggio ma anche un soggetto del linguaggio che può autoraccontarsi. Io adesso provo a condividere due slide se ci riesco, condividi e questa è la cosa che vi raccontavo è che quando praticamente con tutte queste tecnologie la capacità di interrogare dataset, di fare mashup, maplet, insomma sono tutte nuove tecnologie che nascono più o meno tra il 2004 e poi, la mappa praticamente diventa da uno strumento di fatto di potere perché pensate ai piani regolatori che strumento di potere è a decidere dove si costruisce e dove no si democratizza un po' per diventare, come dire, accogliere la possibilità di avere più discorsi sopra le mappe. Io logicamente questa non la riesco. Ah, questa qui che faccio sempre vedere è una delle prime mappe fatte a Napoli su Google Map ed era la mappa dei parcheggiatori abusivi. Credo che esista ancora. Cioè esistono anche le mappe di denuncia, no? La capacità di poter raccontare in maniera diversa un territorio che viene raccontata come la pizza e il mandolino e adesso anche l'opera d'arte è piazzata in... non riesco a girare. Poi c'è una diversificazione che sono le mappe dell'esperienza e l'esperienza delle mappe. Questa qui che non so se è imbeddato o meno, però era la prima mappa che fece Postware che adesso non esiste più in quella formulazione là, però faceva il check-in e il check-out dove andavano le persone. Per cui era una mappa che utilizzava e raccontava in qualche modo l'esperienza delle persone nei bar di New York. Mentre quest'altra è OpenStreetMap che è, come dire, chi fa mappe dell'esperienza nella città e chi mette la propria esperienza nelle mappe mappando su OpenStreetMap. Per cui nascono... io non riesco a girare... Nascono queste cose che io chiamo i neocartografi e i neocartografi. I neocartografi sono tutti quelli che costruiscono cartografie. I neogeografi, ci ricordiamo un poco quello che facciamo noi, è di raccontare al di sopra delle cartografie, costruire delle mappe. Per cui la cartografia è uno strumento di conoscenza esperta del territorio. La mappa è il racconto, la narrazione di questo territorio, è quello che nella cartografia in qualche modo non si vede. E infatti, se guardate la cartografia di Milano, ha una cosa, un'immagine concentrica. Se vedete come si spostano a Milano le biciclette, Milano City Bici fece questa mappa aperta, vedete che invece la mappa della città è una mappa raggera. Detto questo, noi abbiamo iniziato a promuovere progetti di mappatura collaborativa sperando, cercando di far, coinvolgendo i cittadini come protagonisti e non solo come spettatori delle cose che accadevano in città. Per cui dalla città come oggetto di linguaggio, da quella raccontata nelle cartoline, abbiamo promosso una città soggetto di linguaggio, quella che è capace di narrare e di raccontarsi. Io non vi racconto mappina, dove è nata mappina, perché magari molti di voi lo sanno, però rispetto a questi sono tutti i progetti che abbiamo fatto, tutti i nostri contenuti sono in formato aperto. Noi generiamo dataset strutturati geografici in formato aperto e contenuti digitali in licenza aperta, in genere CC BY o CC BY SA. Quando ci chiedono di metterci il copyright, li facciamo pagare di più, perché come impresa noi le vendiamo le mappe. Vi volevo invece raccontare di un progetto con cui parliamo di co-creazione e condivisione. Ah, uno degli altri motivi perché si scrive insieme, Graziano, è il condividere conoscenza e esperienza, perché da sempre noi non facciamo… Aggiungo subito, Ilaria, aggiungo nella slide. Sì, condividere competenza, conoscenza e esperienza, perché competenza è quella, come dire, le cartografie hanno dentro una skill tecnica diversa da chi invece esprime la città. Questo ve lo presento perché l'abbiamo presentato l'altro giorno a un progetto europeo di digital participation in cui ci hanno invitato. È un progetto molto bellino fatto per Save the Children nel 2019 che ha visto tutte queste fasi qua. Da una parte, voi lo vedete? Sì, da una parte, quando noi ci incaricano di costruire mappe, di raccontare il territorio, noi una delle prime cose che facciamo sono i laboratori di co-design, cioè coinvolgiamo gli attori reali e potenziali nel capire come raccontare il territorio. Non solo che tipo di territorio è, ma di fatto noi come lo vogliamo raccontare e da come ci vogliamo raccontarlo capiamo anche quali tecnologie possono essere più utili per raccontarlo. Cioè noi abbiamo anche fatto mappe solo di suoni, cioè vogliamo utilizzare le foto, i video, gli audio, vogliamo fare che questa ci manda delle notifiche push quando sia in prossimità del luogo. Insomma noi a partire da questi laboratori di co-design, di come si chiama, chi sei dove vai un fiorino, capiamo che cosa cosa vogliamo raccontare tutti quanti insieme, sviluppiamo gli applicativi, facciamo le mappature, ovvero mettiamo a disposizione delle persone, dei quartieri, delle regioni, dopo vi faccio magari vedere qualche cosa di più grande dei territori o comunque dei nostri clienti, gli applicativi, li aiutiamo a utilizzarli. In questo contesto qua, questo è un'area, vi faccio vedere quella di prima, questo è il territorio di cui ci siamo occupati ed è un, lo vedete qua, un territorio nel napoletano molto vicino alla stazione centrale con questa rampa della tangenziale che attraversa questa strada e su cui affacciano cinque scuole superiori. Noi abbiamo lavorato con i ragazzi di queste cinque scuole superiori a capire questo territorio come poteva essere raccontato e come poteva essere rigenerato. Per cui abbiamo fatto i laboratori, abbiamo mappato, abbiamo attivato un piccolo iniziativa di riuso temporaneo di quegli spazi e poi siamo stati così bravi che siamo andati a presentarli al governo, questo progetto. Per cui il laboratorio ha, abbiamo deciso di raccontare questi temi di questo territorio. Una cosa molto bella sono stati i miti che loro hanno individuato perché essendo un territorio non periferico ma di una periferia interna napoletana e comunque abbastanza abbandonato, le persone che presidiano la strada che il parcheggiatore abusivo, il pescivendolo, sono quelli là che di fatto in qualche modo, come diceva, gli occhi sulla strada, gli aiutano a tenere a quando loro escono a scuola comunque a mantenere una situazione abbastanza tranquilla di questo territorio che non è un territorio frequentato benissimo. Per cui gli abbiamo intervistati, gli usi degli spazi, i messaggi sui muri perché ci sono molti messaggi di numero che abbiamo utilizzato, le aree su cui costruire delle opportunità di riqualificazione, gli immobili abbandonati e poi il verde che spontaneamente nasce su questo territorio. Qua vedete la mappa con tutti i contenuti qua, qua siamo già su siti open source con le categorie mappate, questi sono più o meno i contenuti perché poi sulla piattaforma, se volete ve lo faccio vedere, c'è una modalità di tempo dei contenuti, abbiamo organizzato tre giorni di laboratori di riqualificazione di questi spazi con laboratori di canto, il pop-up, il street art, ripiantare fiori, dove è venuto pure il sindaco, però insomma non è che poi abbia fatto granché, e poi alla fine siamo stati andati a Montecitorio a portare la nostra esperienza. Sono venuti i ragazzi, io ho chiesto che non la presentassi io, che fossi presente là, ma che la presentassero i ragazzi che erano i protagonisti di questa esperienza, e poi è entrato in una pubblicazione di Save the Children molto bella sull'Atlante dei bambini.